a dire la verità volevo farti uno scherzo ho detto vado via con la sua moto e li lascio qua la mia non è capace di accendere se lo cazzi suoi e poi prima ha detto si ma guarda che lui torna indietro a piedi la moto la lasciala e dopo di torna indietro a te a prenda che le tue cose sono all'inizio della galleria va bene butta dentro se riesci stefano tanto questo va dentro sopposto dove tirano giù tutto ancora oh lo stai facendo lì qua devi buttarla giù proprio devi lasciarla andare giù no vai giù ti tengo io qua vai giù vai giù piano no mettiti su quando vedi che scivola che va lascia andare ma va salta su e basta tanto la vado via drizza eh uno due vai no 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 come no 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 sono in fondo sono in basso eh anche se è in marcia meglio dai vai giù a prenderlo ce l'hai? si che ce l'ho ce l'ho metti giù piedi oh ma sei giù ma se quello davanti mi riparto ma va là non frenare niente cazzo freni o cinematografo di uno cazzo ma hai spostato anche l'invito figaro questo è mai tiro su davanti no no non lo voglio come no non lo voglio ti può servire sempre eh nello zaino qua lasciala che cacchio fai così eh perché me l'hai spenta boh mo hai spostato tutti gli inviti siamo a posto quando arriviamo lì noi cadiamo esatto si devi lasciarla andare e basta eh fine se non la lascia andarti ammazziti si si andiamo in su è Marco troppo vicido no 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 ma non c'è verso non c'è verso non si sta in piedi oh no no oggi si sta in piedi se non la lascia andandi si aves se cerchi di guidare è peggio e lasciarla andare e basta ma non devi guidare, devi andare dove vuole lei e basta andiamo lì avanti da push andiamo andiamo e No, 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 no! non voglio andare su che magari c'è in giro qualcuno magari c'è in giro qualcuno ascolta manca una settimana vada via a culo prima che ci beccano oggi a far cuore ma sente la tua aura no 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 se c'è qualcuno sulle sono a piedi non lo caccio ah si e se ti togli magari provo no 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 no! è di terza sicuro ma arriva su stessa eh io sono uguale se sei pericoloso con quello ah beh meno male senti che buona tanto deve girare fuori si ma su hanno sgarlato tutto su hanno sgarlato tutto dentro di quelle lupe hanno sgarlato tutto sopra hanno fatto dentro tutti i tracciati sullo stesso quelli che sono bravi che manetta vanno su di qua